Dopo un paio di mesi abbondanti di lavoro dei volontari, tutto è pronto per inaugurare domenica, nella ex Ferracina, la nuova sede del gruppo Alpini di Angarano, che finalmente trova un luogo consono per riunirsi. Quanti iscritti contate? Siamo partiti da poco più della sessantina, adesso abbiamo oltrepassato la novantina e puntiamo arrivare sui 100 iscritti, entro la fine della data dei terseramenti. Domenica Santa Messa alla Santissima Trinità, la deposizione della corona ai caduti, quindi la sfilata fino alla nuova sede dove si stanno apportando gli ultimi ritocchi. E qua sta montando un piccolo palco che verrà utilizzato durante l'inaugurazione. Quando magari viene qualcuno, spero che arrivi qualche autorità e allora... Volete farvi trovare pronto? Ecco, vorremmo trovarsi tutti a posto. Tanti gli alpini che parteciperanno anche da fuori regione. Aspettiamo degli alpini da Feltre, aspettiamo da Piazzola sul Brenta, aspettiamo il nostro... Il gruppo più lontano viene da Prevalle, vicino a Desenzano, Brescia, che ci ha già preannunciato che saranno qui molto numerosi. E proprio per le penne nere lombarde già fervono i preparativi in cucina. Sto preparando il gulas, praticamente, per gli amici di Brescia che vengono domani a fare lo spieto. Siccome loro l'hanno mangiato una volta che l'abbiamo portato dall'orno, l'abbiamo fatto noi e l'abbiamo servito a loro e loro sono rimasti entusiasti. Noi dobbiamo, in qualche modo, cercare di accontentarli come si può.